A meno che non metti a ti pixel e poi non prendo i soldi per inquadrare i figli No 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 Ambra cos'è successo? Abbiamo visto un... Eh no ma lì perché? Capito? Quando uno ti viene a dire Perché tu mi tratti così perché io sono donna Ma vaffanella cazzo Sarò sulla depressione di Fedez E lui è la gara che è più depresso Perché scusami, se lui è depresso E' un po' fuori il giudice Ho capito ma è un argomento delicato Ma è depresso? Ma doveva volare via? Ah mi è mai in depression Sei troppo depresso per essere psicologo Ambra vai per piacere Madonna Va beh insomma avete capito che Morgan è stato praticamente tirato fuori da X Factor del 2023 Per via di insomma tutte le cose che sono state dette frecciatine e comunque anche offese abbastanza pesanti Per quanto riguarda gli altri giudici Ma non solo questo insomma ci ha sempre avuto da ridire anche per quanto riguarda i partecipanti E per la questione per l'appunto che X Factor è tutto già organizzato Dovano già sapere quali sono i vincitori Ma obiettivamente non è che si possa dire che abbia tutti i torti Almeno per quanto mi riguarda Insomma queste cose le abbiamo viste già da anni Non è una cosa nuova ecco E per quanto riguarda Morgan un po' mi dispiace Perché comunque si è perso un personaggio all'interno De quello che potrebbe essere un X Factor 2023 molto molto particolare Molto acceso anche Ma io perché amo queste situazioni dove appunto si crea gossip Alla fin dei conti E quasi più del vedere i cantanti poi altre cose Che magari Non viene più valorizzato il talento in un certo modo Almeno non per quanto lo intendevamo qualche annetto fa Detto questo Mi dispiace che effettivamente l'abbiano tirato fuori Perché per me è un personaggio Insomma Non per quanto riguarda la questione tipo onesto Cioè nel senso sincero Non è quello È che capito Non mi ispira il fatto di essere Uno realmente attaccato ai soldi Proprio perché insomma Ha dimostrato tantissime volte di Metterci il suo A tal punto da esporsi così tanto Cioè Non è scemo Quindi la questione è Tu lo sai quello che stai facendo E sei quello a cui vai incontro Al massimo ho voluto dare un segno Insomma Ho voluto essere un simbolo di qualcosa Secondo me Io la vedo ecco più così Da questo punto di vista Non mi dispiace come personaggio Mi dispiace che l'abbiamo tirato fuori Alla fin dei conti Ovviamente poi a livello del programma Fa peso Cioè È stato pesantissimo Non l'ha da dire Niente da ridere perché La sua pesantezza è anche ironica Da molti punti di vista Quindi non riesco però a vederla male Tutta sta cosa Per questo motivo Niente Abbiamo Morgan fuori da X Factor Speriamo nel 2024 Di vedere qualcos'altro Di bello come questo 2023 Bella a tutti